Ancora ben trovati dalla redazione di Frontex Multimedia, in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana. In FIPILI chiuso lo svincolo di Livorno-Porto sia per chi proviene da Livorno, sia per chi percorre via Leonardo da Vinci con provenienza a Varco Calvani. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, in entrambe le direzioni, restringimento di carreggiata con doppio senso di circolazione in carreggiata ovest all'altezza di Poggi Bonsi. Chiuso sia in entrata che in uscita lo svincolo Poggi Bonsi Nord. A Firenze, per lavori urgenti, chiuso il controviale di Viale Guidoni tra via Pertini e via Forlanini verso Forlanini. Possibili disagi per incidente in Piazza Alberti tra via di Campofiore e il Cavalcavia in direzione dei Amicis. In via Pagnini, ralentamenti dovuti a incidente con restringimento della carreggiata. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!